La questione britannica è il titolo del nuovo volume di Limes, dedicato alle partite strategiche che sono in corso in Inghilterra, delle quali noi tendiamo a vedere soprattutto quella del Brexit, intesa come decisione degli inglesi, dei britannici, di uscire o non uscire dall'Unione Europea. È certamente una questione importante, non è altrettanto certamente la questione decisiva. Quello che in questo momento è in gioco è molto più, cioè la capacità della monarchia britannica di tenere insieme il suo impero interno, quello costruito in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord e che anche a causa del Brexit appare minacciato. Se infatti, come è probabile, tra qualche mese i britannici ci saluteranno, ci potrebbe essere un secondo referendum in Scozia con una possibile affermazione degli indipendentisti e soprattutto potrebbe determinarsi un confine duro tra Irlanda e quello che sarebbe un regno britannico ormai fuori dallo spazio comunitario, con probabile ripresa degli scontri, degli attentati e forse anche più in ambito irlandese. Fra chi vuole restare con Londra e chi invece immagina, non solo cattolici, di poter creare finalmente una Repubblica di Irlanda unita e neutrale. In questo scontro sono in gioco non solamente territori, spazi, mari, ma in gioco la stessa sovranità britannica così come si è costruita nell'ultimo mezzo millennio, almeno a partire da Enrico VIII, la colonna in Parlamento. Che cosa resta oggi del Parlamento britannico è difficile dire. La colonna ha ancora un prestigio e certamente suscita affezione e sentimento in buona parte del pubblico britannico, ma non è il momento decisionale di quel sistema. Quindi sono in gioco fattori vitali e essenziali di quello che è stato fino a pochi decenni fa il più grande impero della storia universale. Noi italiani guardiamo a questa vicenda quasi come fosse periferica. In realtà le onde di uno tsunami britannico inevitabilmente toccherebbero il continente e quindi anche noi. Per chi vuole approfondire questo tema dall'interno, grazie ai nostri autori inglesi, scozzesi, gallesi e quant'altro, certamente potrà capire qualcosa di più su questa partita che probabilmente nei prossimi mesi avrà una svolta decisiva.